Fate un colpo di tosse tutti insieme e poi basta però Che salute che c'è qui a Vignale No vabbè basta così perché Tra sette giorni morirai, morirai, morirai Tra sette giorni morirai se non succede qualcosa Prima tutti, tra sette giorni morirai Ma ti vogliono tutti bene lì eh Eh sì c'è dell'affetto C'è della stima vedo Grande stima sì Angelo Sì E venerdì notte Sì E io venerdì notte esco e faccio una cosa terribile Cosa? Karaoke Che tristezza Dai canta insieme a me Dai dai Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale? No Dai cantalo per piacere Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale? No non voglio cantare Non è triste Cioè non Devi dire vengo anch'io Ah ok Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale? Vengo anch'io Vengo anch'io No tu no No tu muori Veramente però va bene anche così Ah tutta questa cazzata per Eh sì è il karaoke Ah ok è vero scusami Ti piace il mio karaoke? Eh guarda Lo sai che i cadaveri sono alti 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 E tu sei ancora vivo Tra poco morirai Questa è dedicata a Antonietta Antonietta Chi è? Prenditela con lui ovunque sia eh È colpa di padre Donovan che ha messo questa Ti vedo che ti stai alzando eh Scusa Scusa c'è qualcuno che si alza Chi è? Non lo so Ho riconosciuto solo lo Lo spacco Ho visto gli uricchiechi attaccato in mezzo ai capezzoli che Una donna Una donna sì Mi piacciono le donne Anche a me onestamente Ti piace toccare anche le donne? Sì ma adesso cosa c'entra? Dai Cambiamo discorso Quella pelle così fredda così glaciale no? Ah ti piacciono vive? Che sì Vabbè oh sono gusti eh Sì io diciamo che preferisco le donne vive Ah sei vecchia scuola ho capito Ma vecchia scuola cosa? Angelo Sì Siamo arrivati alla resa dei conti Sì Voglio fare un gioco con te Sì Ma Bada Sì È il gioco definitivo Va bene Concentrati Sì Angelo Devi fare una scelta Sì Scegli Vivere O morire È vivere È difficile Vivere Cazzo perso Ma perdo sempre sto gioco Ma chissà come mai Facciamo un altro gioco ti va? Sì Muoio dalla voglia Ah sei perspicace Sei arguto Sei simpatico Devi scegliere uno del pubblico Uno che ti sta sulle balle È difficile? No ce n'è uno coi pantaloni viola Perfetto è lui Che si chiama? Fabio Ok Ora farò la conta Per decidere Sì Chi morirà Dove è lui? Sì Il momento è solenne Sì Anghingo Tre civette sul comore Che facevano l'amore Con la figlia del dottore Il dottore si ammalò All'ospedale se ne andò E sì che è strano Essendo lui un dottore Poteva curarsi anche Sì però stringiamo un po' Ok scusi All'ospedale arrivò Ma l'ospedale era chiuso E che palle Questo Tocca proprio a Ma cazzo sono venuto fuori io Non è possibile? Ha un'intelligenza davvero Come dire Ma perché? Vabbè Vabbè Tanto è scritto Cosa? Cosa? Morirà il lunedì No lunedì non posso Ho un impegno Ho il calcetto Ah Avevo anche tutti i lunedì? Sì Eh no calcetto è sacro E allora Morirà il martedì Martedì non posso Vado a farmi gli shatouch Gli shatouch Non esistono gli shatouch Sì sì me li bevo con don acuto Cosa? Me li bevo con don acuto Ah ma col depuratore si fa Esatto Vabbè dai morirai mercoledì Mercoledì non posso E che pa Lunedì non puoi Martedì non puoi Mercoledì non puoi Per me non ci sei mai Ma all'inizio non eri così Siete tutti uguali Bastardi Vabbè dai posso giovedì Ci sei cascato Ah no giovedì non posso io però Perché? C'ho il callista Vabbè Adesso vedo se riesco a spostarlo Ora vado ma ricorda Questa notte Sì Dove si sentono strani rumori in bagno Mentre lei viene posseduta da noi yogurt Lo conosci quel film? Sai che film è? No Paranormal Activia Ciao Arrivederci ciao Ciao